ciao sono emiliano galli dell'agenzia mobiliare remax oggi ti presento l'appartamento in via lucido 36 il primo piano con ascensore e la particolare di questo appartamento oltre al fatto che è in fase di completa ristrutturazione sono quasi termine di lavori e adesso ve ne parlerò e sicuramente la faccio perché quella strada che si vede lì giù dopo quell'albero è via prisciano quindi l'appartamento seppur primo piano ha un'esposizione a destra da questa parte e a sud da quella e a faccia da quarto piano questo è il balcone che è un balcone abbastanza vivibile entra tranquillamente un tavolino lì dietro si entra il pancello d'ingresso che è via lucido predisposizione per l'aria condizionata e il resto la casa ha subito una completa ristrutturazione e stanno finendo appunto le finiture in soccoletti e quant'altro quindi serrande elettriche infissine all'umino doppio vetro pavimento che è un laminato abbiamo visto la prima zona giorno con angolo cottura questa è la camera da letto che ha la particolare di avere queste due punti luce ecco lì la predisposizione del condizionatore disimpegno ecco anche le porte questa è la camera singola che è una camera quadrata 3x3 quindi è comoda anche per mettere eventualmente sempre un letto matrimoniale il bagno dove verrà messo qui il lavabo il mobiletto insomma lavabo e mobiletto verrà messo anche il box doccia attualmente è messo solo il piatto ai sanitari e da questa parte il secondo balcone che affaccia lateralmente quindi la faccia anche qui abbastanza aperto via luciglio è da quel lato e in questo balcone verranno messa caldaia e attacco della lavatrice quindi questo è l'appartamento in via luciglio 36 primo piano con ascensore completamente ristrutturato è rimasto l'ultimo appartamento mentre gli altri sono già stati venduti quindi se pensi che possa essere la casa che fa per te contattami e organizziamo un appuntamento per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi ciao 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 ciao